www.poltronisofai.it 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 Muoviti più liberamente. Vieni su Sky.it o nei negozi Sky. Dividi il salone, integri il corridoio, tiri su due muri, monti il letto a forma di nave dei pirati e Marcolino finalmente è fuori dal lettone. Così almeno sperano loro. Noi lo sogniamo. Abbiamo bisogno di dormire. Un consulente FinDomestic capisce le tue passioni e ti aiuta a realizzarle. Con il prestito flessibile FinDomestic le spese accessorie sono azzerate e nella rata è tutto incluso. Così ai zero spese e zero sorprese. Entra in FinDomestic. Ma tra cambiamento o certezza, non è meglio cambiamento e certezza? Dove una O esclude, una E unisce. Come le obbligazioni Eni legate alla sostenibilità. Durata 5 anni, tasso fisso minimo al 4,30%. Sottoscrivile online fino al 20 gennaio. Con offerta fuorisede fino al 27 gennaio o in filiale fino al 3 febbraio, salvo chiusura anticipata dell'offerta. Prima dell'adesione, legge il prospetto informativo su Eni.com. Eni, l'energia di sempre e l'energia nuova. L'audio descrizione di questo programma può essere ascoltata dai non vedenti sul canale audio digitale o satellitare dedicato, attivando i tasti interattivi del telecomando. Questo programma è presentato da Virtù di Zuppa Orogel. Doppi saldi, 50% di sconto. E se porti con te un regalo che non ti è piaciuto, fino a 500 euro di sconto in più. La praticità di un divano letto scorrevole a 790 euro. In più c'è il ritiro dell'usato gratis. Molto il resto fa solo divani di qualità. Mi hanno chiesto se quello che ho fatto valeva 25 anni. Adesso scoprirò se è così. Voglio che tu vada a Tulsa. Ma è serio? Che cosa ci fa un ex boss della mafia a Tulsa? Quando lo scoprirò sarà la seconda a saperlo. Dammi un paio d'anni e sarò il padrone della città. Tulsa King, la prima serie di Sylvester Stallone in esclusiva su Paramount+. Guardate come sono più pieni e rimpolpati i miei capelli. Elvivi Dry Aluronic. Due milioni di persone lo hanno già provato. L'acido ialuronico rimpolpa la fibra e trattiene l'idratazione per 72 ore. Per capelli 10 volte più idratati. Elvivi Dry Aluronic. Fai parte di quelli che non ne sono sicuro. All'inizio investire può spaventare. De Giro ti offre tutti gli strumenti per iniziare. Dalle lezioni alle opinioni degli analisti. Solo qualche click che puoi investire. Come i nostri due milioni di altri investitori. De Giro. Financial power to you. E tu? 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 E tu? Ma tra cambiamento o certezza. Non è meglio cambiamento e certezza? Dove una O esclude, una E unisce. Come le obbligazioni Eni legate alla sostenibilità. Durata 5 anni, tasso fisso minimo al 4,30%. Sottoscrivele online fino al 20 gennaio. Con offerta fuorisede fino al 27 gennaio. O in filiale fino al 3 febbraio. Salvo chiusura anticipata dell'offerta. Prima dell'adesione, legge il prospetto informativo su Eni.com. Eni. L'energia di sempre e l'energia nuova. Hai detto buoni propositi? Portati avanti con il Super Asaldi di Euronics. Motorola Moto G42 con display OLED 6.4 pollici Full HD+. A 199 euro. Anche con la comodità del prenota e ritira. Euronics. Un mondo più avanti. Welcome to the future. Welcome to the future. I raise my own race. I own my own space. Spinning like a hurry. I'm killing the rhythm, I jiggle the rhythm, I'm jumping like a hurry. Wow! It's my time now. To the future. Jeep Compass C-Hybrid da 249 euro al mese. Con due anni di manutenzione e due di garanzia estesa inclusi nella rata. Da qualche parte ad ovest. Lavorano a una cura. Se ti porto con me, farai quello che ti dico quando te lo dico. Il tuo scopo è più grande di quanto potessimo immaginare. The Last of Usa. Nuova serie dal 16 gennaio in esclusiva su Sky. Guardala. Prova Sky Q a 9 euro senza vincoli. Chiamaci all'141. Vieni su sky.it. Doni i negozi Sky. Giuse, Giovanni, Giuse. Benvenuto. Allora vuoi imparare a fare confetti? Hai un'idea per cui ti ho fatto tenere qua. Di che cosa ho commesso? Come devi essere più veloce nello staccare? La mia faccia ti ricorda qualcuno? È caduto uno per terra. Devi tu. Le emozioni. Sì. Le lacrime. I sorrisi. E un conduttore veramente speciale. Max Giusti conduce Boss in Incognito. Lunedì 21 e 20. Rai 2. Senti, Gianni, ma prima di arrivare a Sanremo non possiamo fare una piccola pazza. Qui siamo dalle tue parti, è zona tua. Infatti conosco un posticino che è vicino. Perfetto. Fantastico, una trattoria, un ristorantino. No, 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 è un posticino dove c'è una salita che puoi fare piatto. Vito? Dai, Gianni, ma scusami, abiti qui vicino, ma passiamo a trovare Anna. Ci facciamo fare i tortellini. Senti, ma quali tortellini, Amadeus? Corri! Corri! I tortellini. Con Cotto Orancio hai l'interesse? Senza fare un tasso! Metti i soldi quando vuoi, li togli quando vuoi. Fai quel che tasso vuoi. Ma a questo interesse, ma quanto ti desse? Senza fare un tasso! Con Cotto Orancio! Per i primi tre mesi hai il 3%! E poi lo 0,5! Yes, bet! Scegli ING! L'acido ialluronico in un fondotinta A Corp Arfene Nude Siero colorato rimpolpante Con 1% di acido ialluronico puro Rimpolpa la pelle come un siero Uniforma e copri come un fondotinta Approvato dai nostri dermatologi A Corp Arfene Nude Da L'Oreal Paris Noi valiamo! Il futuro Riempilo di passione Con Fast Club Mobile Hai 150 giga e 5G incluso A 7,95 euro al mese Per fare ciò che ami Con Fast Club Mobile Tu sei futuro Il nostro intestino è come un ecosistema Quando perde il suo equilibrio Può arrivare la diarrea In quei casi Codex Può riportare l'equilibrio Contrastando la crescita Dei batteri nocivi Codex Bel tempo nel tuo ecosistema intestinale Fiat presenta Super Simple Scegli il modello Scegli il carattere Scegli il colore Scegli di non farti scappare gli incentivi statali Oggi Fiat li raddoppia 4.000 euro di bonus sulla gamma hybrid Ad esempio Panda Hybrid da 9.950 euro Facile come Fiat Ciglia sensazionali Sky High Mascara Da Maybelline New York Ciglia senza limiti Scovolino flessibile Che avvolge le ciglia Per lunghezze e volume estremi Un mascara acquistato ogni due minuti Prova anche il nuovo Sky High Premier Nero Per uno sguardo amplificato Da Maybelline New York Vola con Ryanair E ti innamorerai Delle nostre tariffe convenienti Dei voli in orario E delle destinazioni soleggiate Prenota subito La tua vacanza estiva Ryanair Low Fairs Great Care Wow Delizioso petto di polo 100% italiano Cacciocavallo Silano DOP Cavolo Cappuccio rosso Italiano E salsa avocado Nuovo My Selection Chicken Avocado e Bacon Come on Provalo Fai parte di quelli che Ah, questo è un buon affare Non vuoi che le commissioni Si prendano il ritorno Dei tuoi investimenti Con DeGiro Hai il vantaggio Di una piattaforma premiata E commissioni basse Solo qualche click Che puoi investire DeGiro Financial power to you E tu 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 E tu Per una prostata sana Bisogna fare sesso 27 volte Ma sai cos'è? Che guarisci dalla prostata Ma te viene l'infarto Buongiorno, buongiorno Io sono Rosello Scusate mi chiamo Rosario Fiorello Mi sveglia le 4 di ogni mattina Mi porto cornetti, caffè e cappuccini E' vero che in salotto Hai il televisore nascosto da un quadro? Si, si La cassaforte invece dove la tieni? Viva, viva, viva Viva Rai 2 Torna lunedì Alle 7 e un quarto Su Rai 2 Viva Rai 2 Alessia Marcuzzi conduce Boomerissima Martedì 21 e 20 Rai 2 Brava, hai capito? E' lui che dobbiamo trovare Convincimi Dimmi chi l'ha incisa Non mi presto questo stalking da compagno geloso Stella dov'è? Non lavoravate in coppia? Guarda che questo non è un gioco Ma tu l'hai più vista Vanessa? C'è il tuo ex Almeno faccia parlare Non mi va di coinvolgerlo nella mia vita Perché ti sei fissata sul custode? Io credo che i morti è meglio lasciarli stare Stasera voi vedrete con i vostri occhi Uno spirito ancora presente qui con noi La Porta Rossa La terza stagione Mercoledì alle 21 e 20 Su Rai 2 Questo programma è stato presentato da Virtudi Zuppa Orogel Buonasera La settimana entrante sarà caratterizzata da una nuova fase invernale Con quelle caratteristiche che attualmente sono ancora mancate Ovvero la neve anche sugli appennini e soprattutto sulle Alpi a quote inferiori Ma andiamo con ordine Vediamo la simulazione dell'evoluzione dei corpi nuvolosi e dei fenomeni Che mostra appunto un aumento della nuvolosità su tutto il paese Iniziali dal nord, dal settore tirrenico e poi via via sulle altre zone Così come anche le precipitazioni E la quota neve tenderà a abbassarsi col trascorrere dei giorni della settimana A partire dai 1500 per fino arrivare a una giornata di martedì a quote molto basse Intanto domenica avremo un cielo molto nuvoloso Un settore alpino con nevicate appunto intorno ai 1000-1200 metri Nubi in aumento sul resto del settentrione Con piogge sparse soprattutto sul versante nord-orientale Aumentano le nubi anche al centro Si era qualche piovasco sulla Toscana inizialmente E poi in serata aumentano le nubi anche sul settore tirrenico meridionale In campagna in particolare I venti meridionali in intensità moderata con locali rinforzi Ma rimossi in intensificazione Loredì si ha un temporaneo miglioramento sul settore nord-occidentale Poi in estensione al resto del settentrione Ma rimane sempre per lo più nuvoloso sul settore alpino Con nevicate intorno ai 700 metri Molto nuvoloso invece al centro con piogge sparse E neve intorno ai 1300-1400 metri Sull'appennino centro-settentrionale Aumentano la nuvolosità sul settore tirrenico meridionale Sulla Sicilia e anche sulla Sardegna Con piogge sparse Meno nubi sul resto del meridione Con locali addensamenti Le temperature non subiranno variazioni significative Nella giornata di domenica Se non un aumento nei valori minimi sul settore tirrenico Poi inizieranno a diminuire i valori massimi E per quanto riguarda la giornata di lunedì Avremo ancora una diminuzione Di valori massimi anche sulle zone centrali Bene, questa era l'ultima informazione Vi consiglio di seguire l'evoluzione del tempo In quarto martedì potrebbe esserci neve a bassa quota al settentrione Grazie dell'attenzione e buon fine settimana Grazie a tutti Grazie a tutti